Le avventure di Gaia e Piccoletto, un'amicizia per salvare il pianeta Terra. C'era una volta, in un paesino, ai piedi di un monte altissimo, una bambina di nome Gaia, che amava la natura più di ogni altra cosa. Gaia passava le sue giornate a giocare nei boschi, a rincorrere le farfalle nei pratti fioriti e a raccogliere conchiglie sulla riva del mare. Un giorno, mentre Gaia passeggiava nel bosco, incontrò un foletto discolo di nome Piccoletto. Piccoletto era un foletto molto pigro e disordinato, che non si curava affatto dell'ambiente. Gettava i rifiuti a terra, non spegneva mai la luce quando usciva da una stanza e lasciava scorrere l'acqua mentre si lavava i denti. Gaia era molto contrariata dal comportamento di Piccoletto e decisi di insegnarle una lezione. Con pazienza e gentilezza, Gaia spiegò a Piccoletto quanto fosse importante prendersi cura del pianeta Terra. Gli raccontò delle meravigliose creature che abitavano nei boschi, dei pesci colorati che nuotavano nei mari e delle uccelli che cantavano tra i rami delle alberi. Gaia fece capire a Piccoletto che se non avessero fatto attenzione, tutta quella bellezza sarebbe potuta scomparire per sempre. Piccoletto ascoltò attentamente le parole di Gaia e si rese conto di quanto fosse stato egoista. Promise a Gaia che da quel giorno in poi avrebbe fatto del suo meglio per essere un folletto più responsabile. Piccoletto iniziò a raccogliere i rifiuti che trovava per terra, a spegnere la luce quando non la usava e a chiudere il rubinetto mentre si lavava i denti. Gaia era molto felice del cambiamento di Piccoletto e i due amici diventarono inseparabili. Insieme si dedicarono a sensibilizzare le altre abitanti del paesino sull'importanza di proteggere l'ambiente. Grazie al loro impegno il paesino ai piedi del monte divenne un luogo più pulito e vivibile. Tutti gli abitanti impararono a rispettare la natura e a prendersi cura del pianeta Terra. La morale della storia. Ognuno di noi può fare la differenza per proteggere l'ambiente. Anche i piccoli gesti come raccogliere un rifiuto a terra o spegnere la luce quando non la usiamo possono avere un grande impatto. Impariamo a rispettare la natura e prendiamoci cura del nostro pianeta per il bene di tutti. Fine della storia. Se questa storiella ti è piaciuta per favore sostienici con un mi piace e iscriviti al nostro canale per tantissimi altri libri divertenti, avventurosi ma anche educativi. Grazie per la compagnia, arrivederci e alla prossima avventura. Ciao ciao!